Una fische che ci restituisce l'emozione di scalare le montagne in bicicletta, che cosa l'ha ispirata per questo disegno, questa composizione? Ho voluto principalmente rappresentare l'estate, l'estate in montagna, usando questi tre colori, il verde, l'azzurro e il giallo, che secondo me rappresentano più l'estate. E poi il fatto che sia un tour dedicato ai giovani, ho cercato di rendere l'immagine fresca, leggera, per rappresentare questa idea giovanile. Quando le hanno chiesto di produrre questa fische, questo disegno, che emozione è stata? È stato molto inaspettato, qualche mese fa ho ricevuto un messaggio da una persona che poi si è rivelata Aldo Peinetti, che mi chiedeva di realizzare un'immagine. In realtà inizialmente è stato molto vago, perché voleva incontrarsi faccia a faccia per parlarne, però è stato molto bello. Questa emozione anche di questo sole che spunta dalle montagne, che uniscono Italia e Francia? Mi è stato chiesto di soffermarmi molto sulla rappresentazione dello svalicamento delle montagne e del rapporto tra Italia e Francia. Infatti c'è questo dettaglio delle ruote, una della bandiera francese e una della bandiera italiana, che cerca appunto di unire le due nazioni.